Io sostengo fortemente la dismappa, l'accessibilità anche per i disabili al teatro, perché insomma il teatro è un bene di tutti, è un qualcosa che rende felice, è un qualcosa che insegna, qualcosa che ci arricchisce, quindi il teatro è ecumenico e quindi io, Chiara Francini, sono assolutamente a favore del fatto che tutti, ma proprio tutti, possano goderne.